Peppe, alla fine di tutto posso avere un passo? Posso avere un passo? Già adesso? Ci sto troppo affezionata a questa cosa. Veglia Teatro per me è veramente un luogo dell'anima. Veglia Teatro ha dato a questa terra la possibilità di ricongiungersi dà costantemente a questa terra la possibilità di ricongiungersi con la sua vera essenza che è quella appunto dell'origine, del mito della filosofia che è nata qui. Veglia Teatro riesce veramente a essere un'azione umana che unisce la terra al divino attraverso il teatro. Veglia Teatro è una perla di questo territorio e io sono estremamente grata a Veglia Teatro non solo perché mi permette di partecipare e di sperimentare ma perché veramente è una come dire è una perla magica, come dire è qualcosa di prezioso e di unico al mondo e non sto esagerando. è stata una sorpresa assolutamente inaspettata io sono di questa terra ecco perché anche sento particolarmente Veglia Teatro perché chiaramente valorizza questo territorio sotto tutti i punti di vista e quest'anno che è un anno particolare perché è una commemorazione importante anche la mostra fotografica di Michele Calocero che è stupenda che ha attraversato con i suoi scatti tutti gli sguardi degli attori di tutti questi anni che hanno calcato questa scena e non solo. quindi il fatto di essere stata scelta in qualche modo come insomma rappresentativa ma non tanto io come persona ma un mio lavoro, uno spettacolo fatto e nato anche quello per Veglia Teatro beh insomma è un onore è una grande gioia è una grande gratificazione perché veramente come tutti quanti si sono tanto sforzati perché questo progetto potesse dare al pubblico il massimo anch'io ho cercato di dare sempre il massimo e questo è un riconoscimento per me veramente straordinario io ringrazio tantissimo Veglia Teatro per questo onore un onore grandissimo per me grazie a tutti 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 grazie a tutti